ovvero ok allora rilevano col sensore rileva con la candela scatta la foto ma se vorrebbe fatto se ci riesce prendiamo questo prendo le mf2 peso la sparaflesha e poi vogliamo questa qua ok pronti che cosa dobbiamo fare grant no no che ha sentito che no niente la voce di lenna per un attimo no no per favore speriamo di no allora sensore di rilevano candela e scatta la foto a grant scattiamo ce le due mf roda allora intanto la metto qua che questa invece la riazza di qua se vedo se vedo l'osso ve lo dico ok o guarda osi ma ammazza che ma dove l'hai messo per vedere il corridoio pensiamo che l'avevi messa per vedere verso la la tenda rossa tanto possiamo girarla era già aperta e ragione già aperta alcune tende cartegenica la chiudo c'è per caso l'osso ma no vediamo in questa questa acqua acqua il bacino dove dove nella tenda rossa non c'è vicino al cesso qua comunque io qui vedo la nuvoletta ragazza e anch'io io una telecamera la porterei di qua giusto che è tutto chiuso che ha acceso il gas e allora sta lì allora lì e si sta qui ok tanto ormai sappiamo che è lì quindi questo lo posso buttare quindi posso andare a prendere qualcosa e andiamo a prendere qualcos'altro però la luce va spenta perché sennò non vediamo beh no dai oddio lì si vede un po di attività sto un po un pochino e si è acceso acceso il fornelletto porto il libro io lascio il termometro ok beh io potevo lasciare mf vabbè io prendo spirit box io prendo già subito il lasci stare ma guarda io me ne vado sì scusa guarda tu scusa come vedi così la neve e no ma non vedo con l'effetto delle camera capito e allora vediamo vediamo cose diverse per quello ma solito e spigni della sapete che siamo già bassi di sanità io non volevo dirlo allora facciamo un incursione a portare io il libro qualcuno porti qualche altra cosa se sedamo subito però no che te porti il sale che non possiamo stare lì a vedere sparare scetti porta il crocifisso forza porta il crocifisso ecco come sta la temperatura e la cellulare qualcuno risponda la temperatura non ce l'abbiamo qua mi sa ho lasciato le mf lì eh o io me do io me d'orica che siamo bassi no ma ho detto un'incursione sta facendo il moonwalk sei qui sì buonanotte questo 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 vuole vuole proprio lasciarci le penne lo lascio da solo sì sì allora adesso sparaflescetti e guarda non piglia mia ma le mf l'avete lasciato lì sì sì deve guarda che 67 65 io mi prendo già le pastiglie e qui restate le camera che white on the book che cosa dobbiamo fare il sensore di movimento allora primis un anno ma quanti sensori di movimento abbia come 4 sai male esci 62 prendi il sale collega collega mosso collega capito quando gli pare so collega e colleghi colleghi io adesso mi collego esimi esimi non come quelli in ufficio a noi siamo un'altra cosa no no allora dai andiamo col sale sì chi è che c'è sparaflescetti io io aspetta perché io ho anche i sensori di movimento ma spegnete queste torce ah no so io mi prendo la tele sferica metti che mi capita che altro non si è più palesato qua è quello che mi preoccupa qua non si è più visto vabbè peccato che c'è la neve non si riesce a capire se c'è mette il sale mette il sale ecco ecco acqua acqua uh scrive sul libro in diretta e l'ho fotografato brava allora è lmf 222 si vediamo l'accusa ok quindi libro ma è sempre uguale no ma sono belli sti disegnini è vero si è impegnata però scusate stava scrivendo e non è passato sul sale ecco eccolo però dove sei no attenzione sta tirando robe 3 3 passa guarda e passa mi senti sì che te sento che vuoi ma lei non si è passato qua niente no ragazzi dove sei la temperatura non c'è mi pare che deve ha detto di e qui abbiamo il termometro scrauso però ti ha chiamato al cellulare scendendo vertiginosamente si ha risposto ha risposto ha risposto bene andiamo lara ok ragazzi sotto lo zero via a temperatura sì sì due prove nel giro di due secondi anzi tre perché fa scritto anche sul libro allora libro temperatura spirit box spirit box spirit box quindi nel sensore passato e dovevamo fare la candela no dobbiamo fare la candela assolutamente dobbiamo fare la candela sì sì aspetta aspetti che che muore ma prendila la pastiglia sì vai almeno vai mi spiace che non scattiamo la foto ma che doveva non è comparsa noi la guardiamo mentre va a posizionare la candela la posizioni bene dentro dentro mi raccomando ma dentro dove dentro dentro la cosa dentro la tenda ecco poi scappi veloce scappi scappi vabbè ma c'è la vassicca eh non si sa mai c'è la vassicca beh sì è vassicca vitamina quindi la troca vediamo vediamo se se spegne la troca allora comunque sta anche qui con noi è il fantasma io ve lo dico ma si vede io non vedo adesso adesso date certe capocciate sulla tastiera che sono ma lei cosa cambia ma non si vede nulla così un futuro da regista vedi che la candela è ancora accesa tutti che guardano aspettate un attimo fatemi vedere le foto osso interazione libro spiritico interazione impronte interazione orme orme tante gran belle foto ragazzi non spegne sta cavolo di candela però e se vede che c'è freddo nevica porca miseria mi spegni ma tu guarda un po sto deficiente di moroio passato deficiente e dai su spegni sta candela faccia fai i sordi faccia fai i sordi anche se consumato è ancora ancora accesa ma è ancora accesa ma cambia la brodera la surale di stalla ne vado a mettere un altro ma vorrebbe spegnerla tanto sotto metti la dove sta la prima ecco la spenta la spenta deve la spenta ok va va che roba che fumo anche roba va che roba gli indiani viene bene bene ok possiamo uscire avete messo si è smoroi dai e chiudo a chiudere andate andate arrivederglielo oh finalmente che ti sei compenetrando il pullman e fuori con la capacità di fuori stavolta abbiamo azzeccato sicuro dai dai non l'avevamo trovato sì quindi quanti punti sono le passa puntozzi dai e 1100 ancora non veloventi livello però va bene dai e io potrei passare di livello se c'è capito un altro paio dei passati grazie 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 grazie